Ciao a tutti, noi siamo i Magical Dreams Red, Aria e Blue Vi danno il benvenuto a questo nuovo video Dove siamo? Come dove siamo? Ma qui siamo nel meraviglioso parco di Mr. Alex Andremo alla ricerca delle cose più belle dentro un parco E noi intanto entriamo Wow, ma è meraviglioso ragazzi Wow, che meraviglia Ma questo è il parco più bello che io abbia mai visto Oh sì, guardate quante cose Wow, andiamo C'è un cancello Ma è bellissimo No, ragazzi, guardate Ma quelli siamo noi Wow, sì, Aria, siamo noi Magical Dreams No, non ci posso credere Guardate quante cose, ci sono anche gli ovetti Blue, blue, blue Oh, guarda Ci sono un sacco di gelato Wow Che bello gli ovetti Oh, il gelatino, che carino Blue, ma se ne dovessimo portare uno a casa se ne accorgerebbero? No, magari Blue, l'hai rotto Oh, adesso come fa? Mettilo a posto, non prendiamo nulla Vai, vai Ciao, dai Andiamo Oh, non entra Aria Ma come? Entrate Andiamo Wow, che meravigliosa tavola imbandita Aria Blue Dove sono andate a finire? Red, siamo qui, vieni Sì, scusate Eccoti Allora Red, vieni, vieni Dobbiamo entrare nel parco Dobbiamo togliere le scarpe Oh, giusto, giusto Forse si mettono qui Poi, cosa molto importante Bisogna disinfettare le mani Ma io non ho portato il disinfettante Ah, eccolo E adesso che tutto è pronto Possiamo entrare nel parco Sì Ragazzi, ma questo è meraviglioso E poi guardate, guardate C'è una piscina di palline Sì, Ari Ari, è bellissimo È bellissimo Addio Me ne vado Ciao È bellissimo È meraviglioso Blu, blu, blu Guarda che cosa c'è La ruota dei cricetti Blu, aiutami Aiutami Scusa, Red Ma c'è scritto Mr. Alex Red, ho visto un campo da calcio Un campo da calcio Ragazzi, è bellissimo Io non me ne vado più da qui Non voglio più tornare a casa È bellissimo È bellissimo E mentre Red e Aria si divertono lì Io mi diverto qui Guarda Aria Ha un meraviglioso playground Un'altra piscina di palline Ragazzi, è stato bellissimo Sì Tornerò tutti i giorni qui al parco di Mr. Alex Ma sì Aria, perché ci sono tantissimi altri giochi da fare È vero Se vi siete divertiti potete anche voi venire qui nel parco di Mr. Alex Sai dove si trova? A Messina Blu Wow, bellissimo E allora se vi siete divertiti mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete un bel mi piace Condividete il video E soprattutto attivate la campanella Ciao